Signora, capisco che vecchia zia è stata molto soddisfatto del caro, no? Solo è che questa volta veramente io non so come aiutarla! Ma guardi, mi hanno detto di venire proprio in questo posto, io ce l'ho anche scritto qua, vede? Non credo proprio, io non lo so! Perché è un fastidio insopportabile e non può lasciarmi in questo stato, la sua sarebbe omissione di soccorso! Non abbiamo niente qui per bruita la schiena! Sì, abbiamo tante cose per ogni gusti, ma per irritazione proprio niente! Magari posso accompagnare in farmacia qui vicino? Ma no, sarebbe troppo tardi! Per favore, e poi lei è qui per accontentare i clienti, no? Il cliente va accontentato a qualunque costo, ci siamo capiti? Beh, ma io guardo, ma io non credo, non lo so, io guardo, provo di guardare! Non credo proprio, sì, guardo un po', sì, niente, qui, niente! Ma qua, 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 insista un po', su, provi! Ma questo non è niente, niente, è veramente più che a te, perché io non lo so, ma io credo proprio, quindi certo! Fuochino, fuochino, fuoco, fuoco, fuoco! Eccolo lì! Hai ragione signora, questo viene proprio bene per gradare la schiena, eh! Cosa ne dicevo io? Dove essere venuto in un risultato verticale? Non è che ha qualcosa per... Eccolo, fuoco, fuoco, fuoco! Eccolo, fuoco, 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 fuoco! Eccolo, fuoco, 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 fuoco! Eccolo, fuoco, 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 fuoco! Eccolo, fuoco, 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 fuoco! Grazie a tutti